Benvenuti per un unboxing davvero speciale, infatti sto parlando di un unboxing regalo che mi ha gentilmente mandato John Girvin come premio diciamo per il mio primo posto a Dojerox, alla competizione di Dojerox avvenuta durante l'evento Amiga Ireland 2021 un evento che si tiene ogni anno in Irlanda dal vivo ma a causa delle restrizioni del covid questa volta si è deciso di farlo direttamente in streaming dove tutte le varie persone che avevano aderito potevano partecipare anche via webcam mostrando i propri progressi durante la competizione sono state effettuate delle bellissime interviste e presentate anche nuovi software e hardware inoltre c'erano appunto delle competizioni sia per quanto riguarda i videogames per quanto riguarda anche la musica e il digitale quindi tutto fatto attraverso ovviamente l'Amiga, tutto davvero davvero molto interessante che io vi consiglio caldamente di dare un'occhiata a tutto ciò grazie ai link che vi lascerò in descrizione quindi fateci un salto ora vi farò vedere nel dettaglio cosa mi ha mandato John Irvin e in questo video cercherò di parlare sia in italiano che in inglese perché grazie ad Amiga Bill e a Facebook ho potuto conoscere delle straordinarie community internazionali dedicate appunto all'Amiga con delle splendide persone quindi ora vi farò vedere il salto che mi ha mandato John Irvin e prima di tutto voglio dire grazie a Amiga Bill e a Facebook in generale perché grazie a loro ho trovato molti grandi comunità e persone dove puoi parlare di Amiga amico no? ora vi farò vedere queste fantastiche cose che il signor Irvin ha mandato a me allora la prima cosa che voglio mostrarvi è la cartolina che mi ha mandato sempre John dove abita lui diciamo no? che è il nord Irlanda guardate che bella caruccia che cos'è? delle varie regioni come è suddiviso il nord Irlanda guardate questi ragazzi del nord Irlanda di John Irvin ha mandato a me e questo è un grande messaggio di ciao giro saluti dal nord Irlanda godito il gioco e grazie per aver giocato John quel giro Italy ok perfetto ok andiamo avanti vediamo guardate qua tadaaa ah bellissimo guardate che custodia bellissima di dojirox vedete qui sopra Amiga poi in altra sinistra Nevery Games che John sviluppa vari titoli ed è presto uscire anche Turbo Tomato sempre fatto con le sue manine no? guardate che bellissima dojirox la grafica infatti questo è il nemico che ci lancerà le varie rocce e questo è il nostro personaggio andiamo a vedere ora andiamo ad aprire questo ve lo mostro dopo qui dove si parla del gioco so look that guys all the info about the games the controls the controls credits quindi il gioco è stato sviluppato da John Girvin e l'ho collaborato anche Craig Smith Rob Cranley come di qui vedete che finizza look that guys look that guys so wonderful the colors the enemy that launch to us the rocks our character look fantastic look fantastic ora guardate qui in this gate ragazzi il floppy dojirox dopo tanti anni avere tra le mani di nuovo un floppy amica sensazione unica magic feeling to have again in my hands one floppy disk of amica the color orange so cool guardate le scritte colori tutto ben fatto qui la mitica linguetta stupendo guardate qui quindi floppy disk da giocare con in real hardware con l'amica di Dojirox spettacolare super gift e ora arriviamo al premio guardate qui sentite sentite roccia can you hear it questo è il premio winner nightmare rocker dojirox competition look the winner nightmare rocker this sound wow this is great great award grandissimo grandissimo premio top job john thanks again for this for this grazie ancora per questo giovane spettacolare e quindi che dire ancora questo è stato l'unboxing regalo grazie al primo post ottenuto a Dojirox durante l'evento Amiga Ireland Grazie a tutti, Amiga Ireland, per questo grande evento in februari 2021 e grazie a John Girvin per avermi sentito queste fantastiche cose, cose sexy, amiga cose. Grazie a tutti, John. Very ok. Grazie mille, ancora John, per tutto questo popò di roba strabiliante e ovviamente ad Amiga Ireland per aver organizzato l'evento nonostante il Covid, quindi facendolo via streaming. Vi ricordo ancora di cliccare sui link in descrizione. Grazie a tutti.